Andiamo! giù, giù basso non in affondo gambe basse in affondo vaffanculo e dai che ci arrivi e dai che c'è il braccio qui con il mio del cappello guarda venite voi non c'hai le cose da pubblico ne andate voi non c'è cambi male non c'è il braccio è uscita il calcio scemo sei su un fianco spinge l'altra parte del campo 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 non ci sono più tutte le cose che ci sono sono due volte che ha da bagno e non conosco io quindi e sono anche molto più forte di voi sempre più forte quindi il risultato sono a tutti i giorni e beh guarda che guarda che la mano è chiusa è chiusa il police perché metto il police in buscato sei in piedi mentre lo aspetti e questa è una boccata troppo alto pollice in buscato c'è pazza che troia ecco il brazzo deve essere già steso non sollevare le gambe apri scarretta sei in piedi io la vedo ancora il petto interno continui ad essere in piedi devi usare la tecnica di un croce per avvicinarti al terreno continui ad andare in lungo non ci arrivi il colpo è troppo veloce perché non stai stai incrociando tolto e fai un passo è finita è finita molto bello questo è un ottimo progresso ok apri la gamba è sbagliata un croce e spingi prima raggiungi terra poi difendi non è al contatto dimostrazioni se io faccio la palla anche molto lontana a carta palla ma senza rotazione la palla c'è arriva la palla davanti a cali lui che c'è una distanza più corta ha la notazione davanti perché è più veloce sempre rotazione pala se tu non ci arrivi mai non ci arrivi e poi c'è visto ancora un passo la terribile la distanza non è solo sull'area e faccia così magicamente sei in piedi su dall'opera ci vai di stile mi tieni Rosini se volete con la testa non è solo sull'area ma non è solo sull'area ma non è solo sull'area ma non è solo sull'area anche a destra poi tra l'area è ancora fuori dall'altra e rimane in giro e quindi è portare fuori dall'altra se tu metti fuori dall'altra se ci arrivi e non lo guarda l'altra invece è portata all'opposto la palla e quindi giocare a palloni che il contro gioco ha in direzione non potete permettervi di attaccare a due metri non farete un punto a nessuno l'altro e si ripete apri non andare indietro che accorce ma non parte dopo non è il trattano ma non parte la parte non parte ha iniziato ma non parte ma non parte ma non parte giù basta, giù basta in piedi come al solito molto bene e li basso le braccia è tutto giusto e tolto bene stop 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 Grazie a tutti.